Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito ProAudioLearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Abbiamo già affrontato Vocaline sempre su questo canale e ci ritroviamo oggi per dare uno sguardo alla nuovissima e super potente versione denominata appunto Vocaline Ultra. Come per Melodyne 5 anche in questo caso la analizzeremo all'interno di Studio One Pro grazie all'uso della tecnologia Ara 2 che proprio Studio One ha inaugurato ormai dalla versione 3. Come sanno tutti gli utenti di Studio One quindi per utilizzarlo è sufficiente usare la funzione Edit con Vocaline che troviamo qui sotto all'interno del menu audio. Ma prima di entrare nel clou del video guardiamo alle novità. La più interessante è che ora Vocaline utilizza l'algoritmo proprietario che fino ad ora era presente solo nella versione di Revoice Pro. Consideriamo che l'algoritmo di stretching che utilizza Revoice è impressionante rispetto a tutti i suoi concorrenti in fatto di allineamento delle forme d'onda. Ora è inoltre possibile avere un metro percentuale di allineamento che possiamo anche utilizzare al 100% come era in precedenza. Un sistema come vedremo molto pratico e che rende i cori meno artefatti. Ovviamente oltre a questo e sempre grazie all'integrazione con Revoice Pro ora possiamo modificare anche il pitch nella stessa finestra. Un tool pazzesco per creare cori e armonie. Oggi lo utilizzeremo per motivi di copyright con una song che ho prodotto lo scorso anno. L'Italia di Mauto che trovate già pubblicata su YouTube e vedremo come applicarlo in questo frangente ai cori del ritornello. Per utilizzarlo quindi selezioniamo la voce guida e i cori che ho sistemato qui sopra. In questo caso utilizzeremo soltanto quattro tracce di cori per essere più rapidi. Quindi tenendo premuto shift seleziono tutte le tracce del coro e con il tasto destro in questo caso faccio edit con Vocaline. Lui utilizza già una sua nuovissima veste grafica. Infatti l'interfaccia una volta aperto non abbiamo più la finestra flottante ma un editor vero e proprio estensibile come vediamo quindi modificabile con l'interfaccia e ovviamente anche sganciabile con il pulsante poterlo avere come finestra flottante come abbiamo già visto. Ovviamente è molto pratico utilizzarlo all'interno dell'editor di Studio One. Come prima ovviamente funziona anche il drag and drop quindi possiamo prendere la traccia guida e trascinarla direttamente nella finestra oppure utilizzare le funzioni capture che troviamo qui al lato. Selezioniamo tutte le tracce di coro che vogliamo sincronizzare e clicchiamo su capture della sezione DAB. In questo caso vengono tutte automaticamente aggiunte e sovrapposte. Potremo poi scegliere quale vedere in evidenza direttamente dal menu a tendina con il tasto destro del mouse e quindi lavorare eventualmente su quella. Andando in play ovviamente adesso i cori sono automaticamente già tutti allineati. Ascoltiamoli. Ed Aidas è persa e non è più bella perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra la differenza sostanziale rispetto alla precedente versione è quella questa volta di poter scegliere dei preset dedicati al tipo di strumento che stiamo lavorando. Oltre ovviamente alla possibilità di modificare ogni singolo parametro all'interno di ogni singola traccia di coro. In questo caso se le forme d'onda le vediamo troppo piccole possiamo comunque lavorare attraverso lo zoom interno dell'interfaccia e analizzarla piano piano. Se la traccia coro è composta da un multievento quindi abbiamo una sezione tagliata all'interno del coro. Non è questo il caso. Avremo i parametri distinti per ogni sezione di taglio all'interno del multievento. Quindi è come se poi avremo dei controlli separati all'interno del multievento. Questo è comodo perché se noi volessimo ad esempio che questa sezione in particolare tagliandola diventi un evento a sé in questo modo i parametri saranno distinti rispetto all'evento prima e dopo. Molto molto comodo in fase di arrangiamento. Come vi dicevo attraverso i controlli basic che troviamo qui in alto possiamo scegliere di modificare la sincronizzazione del coro attraverso un match timing con un difference in millisecondi. In questo modo come vediamo la forma d'onda si sincronizza o meno rispetto alla traccia guida originale. In questo modo possiamo scegliere se avere più o meno un timing super perfetto e quindi evitare che sembrino un po' troppo meccanici come cori. Molto utile proprio in fase di mixing perché comunque sì certo vengono allineati ma a volte in maniera troppo perfetta era una delle critiche che veniva mossa alla versione precedente di vocal line. Ogni traccia di dub come vi dicevo cliccando all'interno poi può essere modificata nel timing quindi ogni sezione può avere anche un timing diverso e quindi creare anche dalla stessa traccia audio magari uno spostamento di shifting time e creare dei cori più veritieri rispetto allo standard. Molto bello come effetto sembra veramente reale. Vediamo poi qui nella sezione output qui in basso la forma d'onda originale quindi della voce guida in blu cerchiato quindi ci sembra di vedere appunto un alone blu intorno alle tracce che vengono poi modificate sotto vediamo la differenza tra la traccia guida originale e la traccia che va sincronizzata proprio perché in questo caso possiamo anche migliorare appunto il time shift come vediamo che diventa proprio preciso rispetto alla traccia guida. Questa è una funzione veramente molto utile e che rende il tutto più live e meno artefatto. L'altro parametro che hanno aggiunto in questo caso è il format shift in questo caso rappresenta proprio la possibilità di modificare lo shift della traccia coro. Ma torniamo alla sezione dei preset. Proprio qui infatti possiamo scegliere che tipo di algoritmo andare ad utilizzare in maniera più ottimale per il tipo di cori che vogliamo considerare. In questo caso sto utilizzando appunto vocal double e posso scegliere appunto un o una versione creativa pure essere più tight quindi più precisi nella sincronizzazione in maniera automatica. Scegliamo per l'occasione il legato voice tire timing. L'algoritmo ragiona in maniera già diversa. Sentiamolo. Facciamo caso proprio alla sincronia dei respiri e delle S che è la parte più critica di questo genere di lavoro e che se sovrapposti ci creano tantissimi problemi proprio di fase di anche di rumore fastidioso all'interno poi del coro e spesso siamo costretti ad utilizzare poi un gate e rovinare quindi l'interpretazione anche del coro che è stato registrato. Andiamo a vedere appunto come funziona il format shift. Togliamo il solo. Prendiamo soltanto la voce guida e un coro di ottave. ok quindi vediamoci l'ottava eccola qui. Accendendo il format shift posso scegliere di modificare proprio la formante quindi rendere la voce o più verso un aspetto femminile o ancora più profonda. vediamo. Sentiamola da sola oppure questo ci dà modo come vediamo di cambiare il carattere quindi la formante della voce. Un'altra caratteristica con alt click torna a zero il parametro quindi ricordiamoci. L'altra caratteristica è quella di poter utilizzare il match pitch. In questo caso possiamo scegliere di modificare il pitch e renderlo perfettamente intonato con la voce guida. Non è questo il caso perché siamo già su un'ottava della stessa voce quindi suonerebbe molto simile. Ma andando nella sezione advanced ai parametri di pitch vengono aggiunte delle ulteriori caratteristiche che ci permettono di alterare ancora di più la voce che noi stiamo utilizzando come double. In questo caso l'algoritmo può essere scelto tra modo 1 e modo 2 e possiamo scegliere di avere anche una voce monotona quindi molto dritta sullo stesso tono un po' all'abbattiato per intenderci oppure un valore di ottava più vicina o absolute o relative. Proviamo. alziamo la di un'ottava. Troppo. In questo modo l'ottava bassa viene pitchata un'ottava sopra e tornerà molto simile alla voce originale. Sentiamo. oppure scendere di un'altra ottava. Questo diventa un sistema estremamente creativo. Proviamo la versione monotone. quindi possiamo usare questo parametro anche sull'altro coro. Quindi ricordiamoci monotone e 588. Quindi andiamo sull'altra ottava. Match pitch. Monotone. Arriviamo più vicino possibile. Ascoltiamole insieme. Ascoltiamole insieme. E dai da se è persa. E non è più bella. Perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra. Alziamole un po' e mettiamole con la base. E dai da se è persa. E non è più bella. Perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra. Abbiamo utilizzato sempre la stessa traccia che contiene l'ottava certo bassa ma che è stata pitchata per essere monotonica e quindi poterla utilizzare all'interno dell'arrangiamento cercando di arrivare al pitch della song a orecchio. È una cosa che trovo veramente interessante e che ho usato spessissimo nei miei arrangiamenti. Questo ovviamente poi può diventare o un sistema creativo lasciando così la voce o creare appunto una traccia vocale in questo modo che il cantante può imparare a riregistrare con la stessa ottava. Riportiamo il transpose in modalità 0 delle due tracce. Mettiamole in solo. Togliamo il monotone. E togliamo il match pitch. Togliamo anche sull'altra. E sincronizzare quindi le S e tutto il resto. E non è più bella perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra. Poi il tutto può essere modificato attraverso, come vi dicevo, gli algoritmi che troviamo qui in questa sezione. E sperimentare già con gli algoritmi presenti nei preset delle funzioni creative. Quindi c'è un pitch low format o lower, quindi ancora più basso. E non è più bella. Trovare modo di trasformarle appunto in armonie già preimpostate, molto utile. Time and pitch. E dai da se è persa. E non è più bella. Perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra. Ricordiamoci che poi ogni double che stiamo ascoltando va selezionata poi qui all'interno per poter accedere ai parametri della singola traccia interessata. Trasformiamo quindi il nostro coro ottava, come abbiamo visto, in una funzione monotone, che trovo molto interessante. E inseriamo il parametro che abbiamo visto prima, anche a mano con la tastiera. e ascoltiamo il risultato. E dai da se è persa. E dai da se è persa. Apriamo gli altri cori. E non è più bella. Perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra. E la spiaggia sedesta. Ascoltiamola nel mix. Si indigna e protesta. E al grido del comando chiede un'altra birra. Porta il tempo che farà. E dai da se è persa. E non è più bella. Perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra. E la spiaggia sedesta. Si indigna e protesta. E al grido del comando chiede un'altra birra. Porta il tempo. Riassumendo brevemente. Abbiamo a disposizione. Un controllo della precisione di sync. Molto più avanzato rispetto a prima. Degli effetti. Che possiamo utilizzare. Come abbiamo visto qui al lato. Oppure utilizzarli attraverso appunto. I preset che troviamo qui. E quindi avere già anche delle armonie. Pronte per essere utilizzate sulla singola voce. Quindi possiamo registrare diverse tracce della stessa voce. E poi creare delle armonie direttamente da Vocaline Ultra. La sezione del controllo di pitch. Che prima non era assolutamente presente. 60 come dicevo tra i preset utilizzabili. Qui all'interno del menu. Un'interfaccia completamente nuova. Un dettaglio migliore sulla forma d'onda. E una ridimensionalità molto più pratica. All'interno di studio one. La sezione form and shift. Che anche questa non era presente. Che insieme al match pitch. Fanno riferimento all'algoritmo di Revoice Pro. Un editing. Che può essere in versione più avanzata. Per gli esmanettoni. Oppure in versione più basic. Per utilizzare Vocaline in maniera più rapida. Ricordando che possiede due licenze. Quindi l'acquisto della licenza. Vi dà la possibilità di utilizzarlo su due macchine. E ovviamente il supporto ARA2 assolutamente completo. Una volta terminato. Possiamo renderizzare le tracce. Cliccando su render dell'event fx. Quindi averla poi in primo piano. Oppure utilizzare appunto. Selezionandole tutte. Con il pulsante shift. La possibilità di farlo in maniera più meccanica. Dentro le macro. Andando su audio edit. E cliccando su event fx. In questo modo vengono tutti quanti processati. In maniera più rapida. E possiamo avere ora. Anche visivamente. Una sezione pronta. Per l'export. Degli stems. E quindi per il mix della song. E dai da se è persa. E non è più bella. Perché taglia il filo dei grembiuli stesi alla finestra. In definitiva vocal line raggiunge una serie di steps al già eccellente lavoro fatto in precedenza. Ora con l'integrazione come vi dicevo dell'algoritmo di Revoice. Riesce a lavorare anche sul sistema di pitch. Diventando uno strumento unico e iper creativo. Lo utilizzo ormai da tantissimi anni per le lunghe sessioni di cori. Che ritrovo negli arrangiamenti dei vari album su cui lavoro. E accelera il mio lavoro in maniera significativa. E mi permette di dedicare quel tempo ad altro nell'arrangiamento. Un tool insieme a Melodyne ormai indispensabile e super integrato con Studio One. Il lavoro sul processore come abbiamo visto è molto leggero. E ci permette di utilizzarlo in tantissime tracce anche di strumenti. La cosa che ho trovato veramente fondamentale è l'allineamento dei fiati e delle esse. Nelle parti vocali spesso fastidiosissimi da gestire in fase di arrangiamento dei cori. La nuova funzione di pitch Formant permette un livello di creatività aggiuntivo. Trasformando la voce in uno strumento musicale più avanzato. Il mio consiglio come sempre è di scaricare la demo. Controllare che la vostra Doh utilizzi il sistema Ara 2. Per una perfetta integrazione. E provarlo a fondo. Non ne rimarrete assolutamente delusi. L'ultimo ma non ultimo il prezzo di upgrade. Se avete già Vocaline costa fino al 28 febbraio 40 euro. Poi 79 euro. Un affare comunque. Lascio poi i link relativi al sito dove scaricarlo in descrizione. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online. Sul sito ProAudioLearning.com Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite. Oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate Subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto. Ciao a presto. Ciao a presto.